Come curare un tatuaggio? Ho fatto due tatuaggi un po' di anni fa, in questo video di oggi però ho intenzione di dirti come curare un tatuaggio, visto e considerato che ho fatto ben tatuaggi nel mio corpo. Ecco, io cosa facevo? Io dopo che ho fatto il tatuaggio ho seguito le istruzioni e le indicazioni del mio bravissimo tatuatore. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto sì che andasse a comprare la crema, ho comprato la crema chiamata Bepanthenol e ovviamente l'ho applicata. L'ho applicata praticamente ogni giorno, se non erro due volte o tre volte al giorno, ho sciacquato ovviamente la ferita o meglio il tatuaggio che appare di fatto come una ferita e diciamo così anche perché buttava sangue le prime ore di tempo e ovviamente è normale perché si deve spurgare, la pelle si deve andare a spurgare. Ho applicato poi questa crema Bepanthenol, l'ho sciacquato con sapone rigorosamente neutro, bisogna sciacquarla con il sapone neutro il tatuaggio o i tatuaggi, mi raccomando questa è la regola fondamentale e avevo un asciugamani, un mio asciugamani che utilizzavo per andare ad asciugare il mio tatuaggio. Chiaramente non utilizzavo gli asciugamani di casa, quindi di famiglia perché ovviamente col fatto che venivano utilizzati tutti quanti era un ricettacolo di batteri. Invece utilizzando il mio asciugamani di fiducia che solamente utilizzavo dopo aver sciacquato il tatuaggio e i tatuaggi, ecco che lo asciugavo facendo piano piano dolcemente, passandoci delicatamente sopra l'asciugamani senza andare a frizionare. Ecco e così i miei tatuaggi sono avvenuti molto bene. Ripeto, regola fondamentale, sciacquare il tatuaggio con il sapone neutro, il sapone liquido neutro, liquido mi raccomando neutro, due o tre volte al giorno se non erro, e applicare dopo averlo sciacquato la crema. Io utilizzavo la crema Bepanthenol per far sì che il tatuaggio appunto respirasse meglio. Le prime ore di tempo ci sarà questa, chiamiamola plastichina trasparente che viene applicata dal vostro tatuatore o dalla vostra tatuatrice. Poi però bisogna far respirare la perda un po' di tempo, non ricordo quando, e applicare la crema e ovviamente prima sciacquare il tatuaggio due o tre volte al giorno. La crema Bepanthenol, io utilizzavo la crema Bepanthenol che mi faceva sì che il mio tatuaggio venisse a essere, diciamo così, bello e a respirare di più o meglio. Bene, iscrivetevi, commentate, non sono un tatuatore, non sono una tatuatrice, vi ho detto secondo me quali sono le regole, non mi sono alcuna responsabile, ci ho avuto ascoltato perché ripeto che i tatuaggi li ho fatti diversi anni fa di tempo.